e bella a tutti ragazzi sono frategg e oggi siamo qui in un nuovo video di crash mini oggi proveremo a sbloccare la skin del fisherman della lega e ad arrivare a lega leggenda 5 ovviamente abbiamo delle chiavi che non ci daranno nulla quindi una gold key e una comune che ovviamente non ci daranno nulla quindi siamo degli sfigati intanto andiamo a prendere questo qua che ci aiuta a migliorare il corso delle schien i diorama e non vi nego che ho pushato un po camera sono arrivata a 1763 coppe dalle 600 che ero e non ho usato neanche questo deck ma ho usato questo qua però volevo rispolverare un pochino il warden che era da un po che non lo usavo iniziamo speriamo che il matchmaking sia favorevole e di arrivare a sbloccare queste incredibili le skin allora potenziamo il bro e successivamente mettiamo questo non si può fare nient'altro ragazzi questa è già persa ve lo dico tanto piazza qualcos'altro anzi più di qualcos'altro cazza molto di più di qualcos'altro non lo gela neanche peccato ragazzi quando i match devo partire male parto male cioè non è che puoi far tanto speriamo di vincerla ma la vedo alquanto alquanto grigia vogliamo far così vogliamo fare così proviamo a far così xd come va xd tutto bene ma vuoi far vincere furia che non ci piace se la lancia addosso e si investe lisce però attenzione una gelo su di lui una gelo su di lui che non fa niente bella ho la via recuperata ragazzi questa è la via recuperata questa è stata recuperata molto bene ci piace molto molto bene gustoso allora si potrebbe provare un uno grider perché no magari ci aggiungiamo ci aggiungiamo un pochino di danno sul maghetto che secondo me non fa mai male log rider secondo me non se lo aspetta linko la posizione però c'è da contare che mi potrebbe posizionare altre carte potrebbe fare altre cose quindi stiamo allerta perché sai non sai mai cosa ti può poter piazzare l'oppo puoi indovinare il deck infatti ha passato tutto però penso che sia tutto nell'aria a parte quello lì però va bene lo sono stato ok va bene va bene lo stesso va bene va bene 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 molto bene buono quello cos'era? ah il lumberjack e questa ce la portiamo a casa signori questa ce la portiamo a casa speriamo che siano tutti dei match veloci in modo da sbloccare questa incredibile skin incredible skins allora 6 meno 4 mi rimane 2 facciamo così facciamo così e facciamo così vediamo cosa ne esce andiamo oh brutto dimmi che salta prima eh niente mi ha counterato con il cosiro attenzione cura tutto oh oh no ragazzi incredibile sbroccato maghetto incredibile maghetto incredibile ed è un più 20 un più 20 per noi 1783 ragazzi manca manca una partita se va tutto bene se va tutto bene ragazzi una partita warden 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 attenzione gelino gelì allora facciamo così mettiamo tutto più avanti ah io non sapevo cosa fare perché lui probabilmente avrà il mio stesso deck con i maghetti in più c'è la stellina però non ho voluto investire in una truppa in più e a questa non ci piace lo rallentiamo noi scildiamo a nostra volta abbiamo sbattato gli scudi e la prima la portiamo a casa però c'è da dire che c'ha due delisir in più quindi ho 9 metti che lì da 9 arriva a 11 delisir 11 delisir come previsto intanto questo era il mio computer che stava per esplodere aggiornamento di java disponibile noi lo faremo ovviamente tu direi importante è importante sì però non ora non ora dai ah no 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 truppe insane truppe forti cioè quanto è grande c'è un bibitone sto coso è gigantesco zappa 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 immediatamente ole stun tira il pugno per terra tutto incredibile tutto incredibile signore e questa è la porta a lui a casa e non si può fare niente abilità incredibili con lo sciarchino sciarchino incredibile mancava praticamente una partita e la chiudevamo invece ci tocca sudarlo allora proviamo a destabilizzare il brodo in questa maniera secondo me non si può aspettare un uno grider secondo me no cioè io mi aspetto un potenziamento no stessa cosa mia stessa cosa mia e ragazzi c'è c'è qualcosa che oggi non può andare in questa partita tutto non può andare spacco lo scudo attenzione rallentatissimo quel coso bellissimo quel fagiolone gigantesco rallentato però ragazzi hanno troppo scudo hanno accumulato troppo scudo nel tempo e non si può far niente il brodo si porta la mia truppa addosso con 33 di scudo non credo di buttarlo giù si girano le truppe come un non nulla niente vedi non avere queste carte qua che sei penalizzato sei penalizzato io cosa posso fare sicuramente lanciare una di queste sicuro proviamo così proviamo così e o la va o la spacca cioè non è che puoi fare tanto o perdi o perdi nel mio caso ovviamente che fai non perdi per forza per forza che vai a perdere che fanno la perdere una partita in giornata fa forza vai ottima la stun ottimo ragazzi bisogna togliere uomo shark baby shark bello bello non me l'aspettavo ragazzi io non me l'aspettavo sono sincera sono sincero non me l'aspettavo non me l'aspettavo ok c'è da ragionare proviamo a fare così e questa qua che diventano ancora più veloci ragazzi se la sblocco così la situazione diciamo è del tutto mostruoso ammettiamolo dai questo è sicura inizia a dare un po' di fastidio questo cosa fa target the farthest enemy drug surround enemies forward di early damage stun un secondo due secondi con l'abilità ovviamente droppa 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 giù 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 con la hill con la con la puria volevo dire vai 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 ti prego mi prendi dalla stun ti prego ti prego stun tu stun tu con quella zappina zappina incredibile bello bello Sono tutti vigilati su qualcosa Pessima la mia stun sui miei mini Però cerchiamo di fare qualcosa Vai 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 Secondo me è persa Persa Si si è persa ragazzi C'è troppo scudo Bella partita però Ottima partita da parte sua Da parte forse anche mia dai Un pochino di merito me lo devo prendere C'è anche che non sono il top player della vita Però dai Questa è persa signori Niente siamo 777 Vedrai solo 8 Magari solo 8 Fossimo 88 sarebbe incredibile Che fai Ma che fai Non glielo piazzi un brodo così Per forza Vai Ok Cosa ha messo Ok Quello che fa più damage ovviamente Perché il re Il re Vai Ottimo Ottimo il danno così Vai ci piace Però lui non si cura Eh niente Lui non si cura Ovvio che il warden non si cura Non si riesce ad applicare abbastanza scudi E quindi La prendiamo in col posto Come ovvio che sia Come ovvio che sia da parte nostra ovviamente Allora Bello di papà Cosa vogliamo fare? Vogliamo fare tutto così Ma vogliamo scannarci davvero? Ah c'era di un blocco ragazzi Però attiriamo la Ci consentiamo di Buono Ottimo lo scudo Non male Penso non si è andata male Ovvio che si sposterà solo magari il domatore Però dai Mi è andata male Una partita recuperata Ci piace Agio Sono fatto male all'osso C'è lo scroccato cortissimo E Facciamo questa Secondo me Ci può aiutare E droppiamo una furia Tutto quanto C'è Quasi tutto infuriato Tranne il bro del ghiaccio Però dai Super giù Ci siamo Secondo me ci siamo Vai Smi e snò Perché anche lui è stunnato Non è che qua Bella Bella Quella lì Quella lì ragazzi È importantissima È importantissima Bisogna vedere cosa fanno gli altri 2 mili però Ok Ti prego Stunna Molto buono Molto buono Molto buono ragazzi Molto buono Dino bus Dino bus Dino bus Cosa ti combino Allora Concentrazione Facciamo così E facciamo così Io due cuori Magari la posso ribaltare dopo In caso di vincita sua Questo cosa fa Questo è il re Cosa fa Dreno in energia Pessimo Incredibile Pessimo Incredibile Sto impazzendo Signore sto impazzendo Bisogna la togliere quella Non la tolta ovviamente Però Oh ci siamo Ci siamo Secondo me ci siamo Mi fa tipo 90 di danni Però ci siamo Ragazzi Penso di essere arrivata alla Lega E mi sa E mi sa di no Aspetta Oddio Che schifo Che schifo Continuiamo Continuiamo Non parliamo Continuiamo Questa è l'ultima partita Ovviamente È l'ultima partita Allora Potenziamo Questo qui E Boh Mettiamo lui qua Spero mi vada Sul warden Cioè Proprio sincero Comunque ci vorrebbe Una partita Con quest'eroe qua Lo skeleton king Che non è male È un bellissimo eroe Ovviamente I fatti suoi Il Il ciolino del ghiaccio Non se li fa Cioè Non esiste proprio Fatti fatti proprio No Prima persa E va bene Questo non morirà mai Perché dopo rinasce Che benità c'ha lui Buone Cioè Ti compare Ti compare Uno scheletro gigantesco Mica male Hai detto niente Proviamo così E proviamo a depistare così Con Non vorrei fare il maghetto Vorrei fare il bro Che mi va a bustare Un pochino il tutto Tanto un passo Lo fa lui Un passo Lo faccio io Con questo qui E lui va avanti Allora Dovremmo essere bustati E il che ci piace molto Attenzione per la stun sua La stellina Ce l'aveva anche prima Non lo so Non l'ho visto Sincero Non l'ho visto Vai Ottimo 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 Ragazzi ottimo Dopo alla furia Che mi va a bustare Il brodegliaccio Va bene Va bene Va bene Va bene Tanto c'è il tempo Di recuperare Assolutamente Va benissimo Perfetto Perfetto Ok Concentrazione Perché è l'ultima partita Fra Fra è l'ultima partita Non la buttiamo nel secchio Ma io mi vado Ma io mi vado a scendare Che non si sa mai Io voglio più vita Voglio più vita Che a me serve più vita Il re Oh no Che schifo Vai 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 Togli tutto Ti prego togli immediatamente tutto Droppa quella furia Fai quello che vuoi Droppa tutto Droppa la vita Droppa tutto 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 Lo devi far piangere Vai Va bene La stusua Non fa niente Non fa niente Perché tanto Li togliamo i suoi mini E ragazzi Bellissima partita Quello andiamo a stunnare Slash amichilire Qui tiro un'abilità Che abilità Abbiamo sui E ruba Tuoi isolati Ma tanto isolati Non sono secondo me Intanto Intanto Siamo qui Ecco cosa devo dire Siamo qui noi Sai che ti dico Che a me Stunnare i 5 Per sole Non è che mi fa proprio schifo E ti dirò di più Facciamo questo Così prendiamo più mini Dai No Oddio aspetta C'è lo studo però Attenzione Stunnato Va bene Però Buona la stun Ottima la stun Bellissima la furia Da parte mia Bellissima ragazzi Questa è vinta Molto probabilmente Vinta Cioè a meno che non succeda Lo stun Cose strane Bro che si lanciano Per terra Fanno delle stun Incredibili Qua è vinta È vinta Dimmi che è vinta Dai sì 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 Cia pochissima vita Ragazzi abbiamo sbloccato La incredibile skin Del fisherman Più 18 Più 3 coin Del pass E andiamo a sbloccare Sta bellissima skin Del fisherman Leggenda 5 Leggenda 5 Skin incredibile Skin del fisherman Ragazzi Bellissimo Peccato che sia solo Un cambio cromatico Non abbia effetti Però Molto 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 Bella Skin del fisherman Acquisita Che diventa nostra Andiamola a vedere Se c'è da qualche parte Allora il fisherman Qui L'andiamo ad impostare Bellissima Stupenda Stupenda Guarda Li facciamo il regalino Lo alziamo di qualità Perché bellino Poi Vi avevo promesso Ad inizio video Intanto 1814 Buonissimo risultato Toy machine Io Inizierei Dalle Facciamo la girata Quella incredibile Vediamo se ci esce qualcosa Di particolare Quella con la golden key Viola Che non uscirà niente Perché io lo so 5.000 monete Che non fanno mai male E adesso Possiamo iniziare A girare Le ultime 12 chiavi Iniziamo Tap to open 10 Prima girata Nulla Bianco Claramente Viola Cos'è? Sì Sì Skin del mega crab Mega knight Incredibile Incredibile signori E si vanno a sbloccare Anche le skin Oggi Con il mega crab Incredibile Altra pallina Vediamo cosa è il serbo Attenzione Viola Monete Me l'aspettavo Tap to continue Vai 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 Spacchettiamo Roba che ne troviamo un altro Impazzisco Dai Dai Vai Bellissimo Dopo la vado anche ad impostare No abbiamo finito Ah no Ne manca due Ne manca due Su Si gode Ragazzi Si gode Si gode Si gode Verde che non ci darà niente Purtroppo E ragazzi E' uscito un bel video Uscito un bel video Siamo arrivati alle 1800 Abbiamo sbloccato Abbiamo sbloccato la skin Dell'incredibile Fisherman Che è questa qua Bellissima ragazzi Davvero bella Speriamo che esca Globale Sto gioco Perché potrebbe diventare Qualcosa di assurdo E abbiamo sbloccato Il mega crab Questo qui Adesso ce l'ho anche Skin Cosa ho fatto Andiamo a prendere anche Quello immediatamente Skin del mega crab Ragazzi Sbloccata Si gode La qualità Noi gliela miglioriamo Vediamo cosa ci dà Altre tre chiavi Ragazzi Ne andiamo a girare Immediatamente Ne andiamo a girare Non ci interessa Vai Ludo Spatos Viola che non ci darà niente Le mie monete No Ho sbagliato Sbagliato Scusa Questa pure Non ci darà niente Bianco Questa pure Non ci darà niente Teo Succede Va bene Va bene Io mi accontento Beh Ma contento Due skin Sono arrivato A lega leggenda Cosa voglio di più Vediamo di free Che cosa c'è Giveaway plus gratis 5000 monete Che non le buttiamo via Per oggi è tutto ragazzi Abbiamo sbloccato Queste due Incredibili skin Iscrivetevi Mettete mi piace E attivate la campanellina Se vi piacciono I miei mini contenuti E ci vediamo In un prossimo video Bella